Ennesimo agguato di Camorra a Miano, nel rione Don Guanella, Pasquale Torre, di 45 anni, e Giuseppe di Napoli, di 35, sono stati uccisi a colpi di pistola. L'agguato è avvenuto sotto gli occhi di decine di persone. I due viaggiavano in auto quando i sicari si sono avvicinati alla loro vettura e hanno esploso i colpi di pistola. Una delle due vittime è stata trovata a bordo della macchina, mentre la seconda è stata ritrovata a terra con molta probabilità, ha tentato di scappare. Secondo una prima ricostruzione, ad entrare in azione sarebbero stati due o più sicari giunti sul posto in sella al più scooter, che avrebbero fatto fuoco con armi diverse. Sul posto sono arrivati la polizia e i soccorritori, ma per i due non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno scavando nel passato delle due vittime, sembrerebbero legati al clan lorusso. L'agguato al momento viene inquadrato nel conflitto tra clan rivali dell'area nord del capoluogo. Dure le reazioni, il senatore Sandro Ruotolo afferma, Napoli è l'area metropolitana assediata e clan come terroristi. Non è più tollerabile che nella terza città d'Italia ogni giorno persone innocenti rischiano di trovarsi al centro di agguati, stese ed esplosioni. Quanto ancora bisognerà aspettare che, dalle parole di Lamorgese, si passi ai fatti per garantire la sicurezza nei territori, afferma invece Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli. Si fa finta di non vedere la deriva criminale che attanaia la città. Purtroppo gli strumenti attualmente in campo per contrastare la criminalità non sono sufficienti, dichiara invece il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.